Parco bici ed eccoci qua per la terza parte di questo quinto LDS Cycling Show Questa settimana non si può che riparlare della Rockrider Race 900 in indizione limitata che vi ho già fatto vedere come prodotto della settimana bicicletta veramente molto bella con un allestimento al top commentate qui sotto nei commenti cosa ne pensate anche voi di questa bicicletta che ho voluto farvi vedere questa settimana e se non l'avete ancora fatto vi conviene approfittare per provare a andarla ad acquistare prima che le quantità finiscono proprio perché è in quantità limitata e qui sotto in descrizione trovate il link per andarla ad acquistare Da commentare, la rubrica da commentare Questa settimana non si può che non far vedere il video di Christophe Laporte che mentre sta correndo nella foresta di Aremberg da nulla quasi gli si rompe la ruota è un qualcosa che non si è praticamente quasi mai visto e la ruota si è rotta come se fosse stata di cartone e voglio sapere cosa ne pensate voi di questo fatto che è caduto alla Paris-Roubaix molto interessante vedere come quella ruota Dura-Ice nuova di quest'anno si sia rotta così facilmente commentate pure qui sotto con l'hashtag da commentare e questo LDS Cycling Show si conclude qua se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e prossimamente ne usciranno anche altri con dei bike test non vi anticipo altro iscrivetevi e accendete la campanellina per evitare di perderveli e se lo fate siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima iscrivetevi al canale